signore e signori ecco a voi una grande storia luci, dottore, azione non una puntata qualsiasi volete dirmi che ci fate qui voi cinematografari? ma un episodio doppio un unico grande racconto non ne dubito ma sono io il regista come un film retro movie ogni mercoledì alle 21 su fox retro grazie